Avete mai montato degli albumi a neve? Ok, adesso vi faccio vedere come vi si fa, ma soprattutto vi inseguo una ricetta che ho inventato che si chiama uovo alla nuvolari. Prego. Allora, per montare i bianchi a neve possiamo utilizzare due forchette incrociate, la tecnologia ha fatto passi in avanti, una frusta, ma l'ultimo step è la frusta elettrica. Utilizzeremo questa per comodità. Cosa succede mentre andiamo a montare? Praticamente tantissime piccole bollicine d'aria vengono intrappolate nei bianchi e questo gli dà un aspetto di panna montata che assomiglia molto a una nuvola. Vedrete il cambiamento. Così è finito. Panna montata o una nuvola. Adesso vi faccio vedere come fare un uovo alla nuvolari, una ricetta che ho inventato. Allora, per l'uovo alla nuvolari bisogna imburrare leggermente una padella. rovesciamo la nostra nuvolari, un uovo all'interno e praticamente panna montata, anche se è un sapore diverso. facciamo una piccola nicchia, un piccolo bocchino qua. Ora metteremo i rossi, i tuorli. un po' di sale, e sale nero di cipro questo, e un po' di pepe. Dopodiché lo chiudiamo e lo lasciamo cuocere. e questo ora non vola.